Apparentemente oggi ci troviamo dinanzi a due racconti, quello del re Ezechia che dinanzi al suo pianto viene dato il dono di vivere altri 15 anni e quello di Davide con i suoi compagni che dinanzi alla fame mangiano il pane dell'offerta e Gesù sempre a consensiente, sempre a lodare questo atto. Ecco dinanzi, ripeto, a queste due vicende che sembrano a noi lontane, a noi indifferente, cioè potrebbero non dire nulla, in realtà nascondono un messaggio importante, quale? Che Dio desidera la tua vita, la nostra vita. Dio sta dalla nostra parte, non è nemico della nostra vita, non è lontano dalle nostre difficoltà, dalla nostra assenza di vita, da tutte quelle situazioni umane che ci tolgono una vita, no, Lui ama la nostra vita, sa della nostra fame, sa della nostra sede, sa delle nostre problematiche e la parola ci ricorda proprio questo, sì è vero la vita è misteriosa, la vita ci sfugge, la nostra storia non la comprendiamo, ma la parola ci ricorda un punto importante, Lui è amante della tua vita, credere a questo nel momento in cui ti sembra di perdere la vita o forse nel momento in cui a volte la vita l'hai persa totalmente e la forza è più straordinaria, Dio è amante della tua vita a tal punto che ha dato la sua vita, la vita del figlio suo perché tu possa vivere. Buona missione.